Di nuovo insieme a SOS Rezzo TV, in lontananza vediamo la discarica che avevamo scoperto qualche settimana fa qui nell'aria fantasma dell'interporto di indicatore, però dobbiamo mostrarvi una novità piuttosto importante cioè l'aria è stata finalmente transennata, che è quello che chiedevamo l'altra volta cioè per evitare Beppe che continuano... Andassero di notte indisturbati a scaricare tutto quello che volevano in un punto laggiù che era invisibile e quindi di conseguenza potrebbero fare tranquillamente quello che gli pare Esatto, poi c'erano anche dei tombini aperti molto molto pericolosi Per fortuna è stata transennata, ricordiamo che scattò anche il sequestro della forestale venne anche individuato il responsabile di quell'abbandono di rifiuti che è stato denunciato Sì, non lo sapevo Dalla forestale, era titolare di una impresa dell'immediata periferia di Arezzo e quindi l'aria adesso è transennata almeno per quanto riguarda i mezzi, furgoni quindi adesso qui non si passa più I pedoni invece possono passare perché vedete che c'era questa transennata ma è stata già di velta quindi volendo ancora si può passare a piedi però già è una complicazione e poi tu mi fai notare giustamente che andiamo dalla parte di qua dalla parte di qua si passa tranquillamente Ma questo è stato fatto per evitare che passassero le macchine Ma a piedi chi ci va a fare le passeggiare Esatto Però scaricare i rifiuti adesso è più difficile, no? Esatto Guardiamo, guardiamo Dappertutto c'è di tutto e di più Ovviamente essendo completamente abbandonata Purtroppo questi sono i risultati quando si abbandona i luoghi come quando lasci una casa chiusa per anni purtroppo poi il risultato La cosa brutta è che lì ci passa la ferrovia per Firenze e tutti quelli che vengono a Arezzo si imbattono dal finestrino in questo scempio Guarda qua, guarda qua Eh sì, purtroppo La mano dell'uomo si vede sempre La mano dell'uomo è questa Quindi ho l'incivittale, sovrana Comunque, diamo Penso che sono stato in Oman Il secondo è stato al mondo per pulizia In Oman Io pensavo a trovare i beduini Sono rimasto fregato di nulla Cioè ci insegnano loro, a noi? Il secondo è stato al mondo dopo Singapore per pulizia Veramente è una cosa impressionante A parte poi tutto il resto Ad esempio non pagano tassi Guarda, poi là, anche là, è tutto transerato Lì la vegetazione ha mangiato tutto Sì, sì, sì Addirittura l'ha anche coperta Tra l'altro qui non ci eravamo mai spinti Le altre volte siamo sempre andati in profondità Ma questa è la parte anche più visibile del mercato ortofrutticolo Qui vicino nei pressi Qui davanti c'è il mercato ortofrutticolo Quindi questa è l'unica area che viene utilizzata Però qui c'è di tutto Bottiglie, bottiglie Colli di bottiglia, guarda Anche sono pericolosissimi Diventano un'arma Comunque c'è da dire che Dobbiamo dare atto alla proprietà di aver recintato Esatto, questo è stato importante In modo tale che ha evitato appunto che Almeno la discarica non ci fosse più Anche se ci saranno purtroppo Come vedi qui davanti a noi altri siti Qui tra l'altro qui si passa con la macchina Anche qui andrebbero Dove poter eventualmente scaricare Andrebbe recintato Qui si entra con la macchina Con i mezzi Sì, sì Scopriamo adesso che se non transendano anche qui Diventa abbastanza inutile Esatto, perché qui si può passare tranquillamente E andare poi su un fondo Qui bisogna che allora Transegniamo Cioè qui va transendata altrettanto Esatto Non si è fatto niente Niente si è fatto Ricordiamo che l'area era sequestrata Quindi ci sono dei rischi ulteriori Per chi dovesse Quindi non è un incentivo Anzi avvisiamo che Siccome l'area è stata anche sequestrata Vi passi la voglia di farlo Perché oltre a commettere il reato Dell'abbandono di rifiuto Poi violate anche Esatto Ovviamente un'area dove È intervenuta la forestale Qui la diventa più incolta Ma qui sono campi Addirittura non è stato fatto niente È rimasto al stato originale Comunque è un'area gigantesca veramente Eh sì È grandissima E qui prima cosa? Erano campi e basta Campi Campi Quindi comunque i sassi Lì hanno comunque rovinato Per fare questa cosa Hanno rovinato dei campi O no? Lì hanno creato il sottofondo necessario Perché struisci sopra i capannoni Ha fatto tutta l'area per urbanizzazione È rimasto i fondi Diciamo speriamo un futuro Che questa economia riprenda E quindi se si inizia a ricostruire i capannoni Vuol dire che si rifanno nuove aziende E si ricrea appunto quel PIL necessario Affinché si riporti tranquillità in Italia Oggi che non c'è più Visto che poi quando siamo previsti allo 0,1 0,2 Siamo a zero Non solo ma più di un esperto di economia Prevede tra il 2019 e il 2020 Un'altra crisi E che colpirà chiaramente le economie più deboli Come quelle italiane Allegria Io capisco che tu sei un ricco pensionato E la cosa non ti interessi Però Però ho moglie Ho moglie Ho moglie Ho i figli Quattro figli Cinque nipoti L'interessa Lo so Lo so bene, ci fermiamo qui in questo scempio vediamo che c'è ancora qualcos'altro forse da vedere qui che c'è, cos'è sta cosa? plastiche di vario tipo e vabbè la cartolina del degrado c'è quindi c'è una piccola novità piccola, piccola grande novità che l'aria è stata transennata però invitiamo a transennare anche l'altra parte perché altrimenti uno potrebbe comunque entrare e finire dove già erano stati abbandonati diversi rifiuti grazie Beppe ci vediamo domani ciao